Perde il controllo dell'auto che sta guidando e finisce a ruote all'aria. Due persone restano ferite. Gli altri tre passeggeri escono dall'Areno Clio e si dileguano. È accaduto ieri notte l'Asiago in via Berga. L'incidente ha danneggiato 5 metri di lastroni che delimitano la strada dal marciapiede, andando a sfondare la rete di una proprietà privata. Sul posto i vigili del fuoco di Asiago, che hanno lavorato per diverse ore per terminare le operazioni di messa in sicurezza. I due feriti sono stati condotti in ospedale dall'ambulanza del SUEM. Rilievi da parte dei carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica e soprattutto capire perché i tre amici sono scappati invece di prestare soccorso ai feriti.